e benvenuti in questa diretta in esclusiva su tele 7 lamette da vostro mago bracchia parelli che vi predirà passato presente futuro salute soddi travaglio futura e amore e bronicicine voglio che me fotte e soldi me fotte ah vai Merlino ma che cosa stai dicendo? ricorda a tutti gli spettatori che Merlino è un pappagallino magico trovato nella foresta amazzonica e che mi aiuterà questa sera nelle vostre consultazioni ma andare a mangiare con nodo annunca le consultazioni le fai solo come vedete il pappagallino è un carattere vivace ma io direi di non perdere tempo e iniziare subito con la prima telefonata pronto? pronto con nodo e buonasera anche a lei chi è? signora testummi la tua vicina da casa signora magari chiama chi è che vuole? chi è che vuole i soldi per dare ancora aspetto 100 euro eh regia passiamo alla seconda telefonata mi raccomando filtriamo le telefonate non mi chiamo seconda telefonata chi è? pronto? pronto? si come ti chiami? Anzettolo Anzettolo che nome è strano sei italiano? no no Anzettolo vuol dire indovina indovinalo dato che sei il grande mago ombra il caparello e gli stai miso Anzettolo che sono anzetta manca la chiave però ho buttato quando sarete da casa su sciamonito ehm regia terza telefonata forse andiamo avanti? ehm stacca oggi è giornata sbagliata pronto? pronto buonasera mi chiamo jessica ciao jessica cosa vorresti sapere? io sono fidanzata da poco però il mio ragazzo è partito a militare volevo sapere quando donna ci sposiamo? e allora vediamo cosa mi dice la mia sfera di cristallo riguardo questo matrimonio allora io vedo vedo e prevedo vedo e prevedo io prevedo conosci tu donna Puppo che cosa? Puppo Puppo donna mi scuso con gli animalisti ma il pappagallino è tornato nella foresta amazzonica a coprimo aereo e allora come ho finito? Jennifer per curiosità tu quanto hai donato oggi alla trasmissione per questo consulto? io ho donato un euro un euro e allora mi sa che la donna Puppo è davvero Jennifer ma come? se tu donavi qualche bella carta di 100 euro possibilmente te lo facevo maritare subito subito ma lei lo sape che è il connoto? andiamo avanti regia con la prossima telefonata buonasera sognotore standoffo sognotore in cosa posso esserle utile? ma vero come finisce la battita della taglia con Galles cacciare la bolletta mi faccia controllare allora finisce 2 a 1 per il Galles 2 a 1 per il Galles ma chi è stato ribattuto? no no guarda oh no 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 è la sfera mi ha detto cos'è ma chi è stato ribattuto? io non c'ho sbagliato ma cosa era questo? uno del gruppo degli ultras? no ma questo è il suono dell'antifutto della mia macchina buongiorno sogno posteggiatura abusiva mi sa che ci stanno spasciando la macchina a coppia e mazza da qua ma come? ma facessi qualcosa? ho chiamato la costura forza che fa qua? ma lei quando è arrivato un euro me l'ha dato? no io non c'ho nessuno sono delle posteggiature abusive e io non chiamo la costura più connute sarò spondecci questa bambetta che va innaferolo ehm signore e signore mi sa che questa diretta sarà interrotta e buongiorno signor mago ah ma allora siete arrivati? e faccia qualcosa fuori mi stanno fregando la macchina no ma io non sono in servizio ora come ora io sono venuto per un consulto ma come ho in consulto? secondo lei mia mogliere mi fai conna ma chissà ciuca su cifà vuol dire quasi merda ma lei non c'è spondante la sfera di cristallo se sogno connoto? lei non solo è connoto io magari sbirro e mi sta facendo fottere la macchina senza fare niente ma almeno ho risultato da partita con Galles mi vuole rire vince 2 a 1 e Galles pincia pensa ai 1000 euro di bulletta allora e lei perché gioca ad azzardo? senta mi scusi la sua macchina che diceva prima per caso i cerchioni ce li ha buoni? ma che domanda è mi scusi ma comunque si i cerchioni sono buoni perché? ah non lo sei i cerchioni lasciatemi la mia che ce li ha invidere i cinesi che faccio con me lì